È un po' nervoso, vada. Per cavallo è facile! È meglio che cambi mestiere! Perché tutta questa rabbia? Non prendi una vita e la butti via in blocco. Solo perché ha qualche difettuccio. E adesso vinciamoci questa corsa. Basato su una storia vera, il film Sea Biscuit. Un mito senza tempo. Sabato alle 21.20.